Presentato il calendario istituzionale 2015 del comune di Casoria, l'opera ha un titolo significativo Casoria, terra dei santi, e prende spunto dalla santificazione di padre Ludovico per raccontare il territorio nei suoi luoghi più legati alla vita di uomini di Dio che ne hanno caratterizzato la storia. Così ogni mese è dedicato ad una chiesa, un luogo santo nel ricordo di San Ludovico che ha ispirato le azioni di Sor Giulia Salzano, santificata da Benedetto XVI, di Maria Cristina Brando, prossima santa, di Sor Luigia Velotti, presto beata. La manifestazione ha visto una folta rappresentanza di pubblico con la presenza della giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Carfora che ha rivolto un indirizzo di saluto a tutti compiacendosi di trovare un calendario dove Casoria viene raccontata nei suoi risvolti positivi. Moderato dal giornalista Giuseppe Pesci che ha scritto anche le riflessioni presenti sul calendario per ogni mese. L'incontro ha visto la partecipazione del nostro direttore Giuseppe De Silva che ha illustrato le attività di Digital Movie Unica Channel intraprese per raccontare la santificazione di Ludovico e gli eventi organizzati dal comune per l'occasione. È stato proiettato un filmato anteprima del docufilm curato dalla regia del nostro editore Ettore Terribile Chianese. Il calendario stampato dalla tipografia Postiglione è stato impreziosito dal lavoro del fotografo professionista Fortunato Celentino. Le hostess dell'Istituto Turistico Torrente guidate dal dirigente scolastico De Rosa hanno letto le riflessioni scritte da Giuseppe Pesce per il calendario impreziosendo la serata con il loro glamour. Alla fine le ragazze belle e professionali hanno distribuito il calendario al pubblico in sala che l'ha molto gradito al punto tale che sarà necessario stampare una seconda e forse una terza edizione.